Nei campionati internazionali della categoria GT3, la Porsche è una delle principali protagoniste. La casa tedesca, in vista della stagione 2016, ha preparato per i suoi clienti la 911 GT3R, derivata dalla RS di serie presentata a Ginevra. Questa Porsche da competizione è stata alleggerita fino a 1220 kg, con una scocca mista in alluminio e acciaio e vari parti in fibra di carbonio. Sono poi stati installati un serbatoio rinforzato con valvole di sicurezza da 120 litri, un alettone posteriore largo 2 metri e lungo 40 centimetri e radiatori anteriori. È stato potenziato l'impianto frenante, mentre è rimasto invariato il motore della GT3RS stradale a 6 cilindri box e raspirato a iniezione diretta. Questo 4 litri, con cambio sequenziale a 6 marce e con palette al volante, scarica la potenza di 500 CV e i pneumatici posteriori da 310 mm. Il costo di quest'auto da gara, le cui consegne inizieranno il prossimo dicembre, è di 429.000 euro più IVA.